Professor Pregliasco, dall'indagine svolta da Assosalute abbiamo visto che c'è un 23% di italiani molto preoccupato e in ansia per l'arrivo concomitante della nuova stagione influenzale e del Covid. Questa preoccupazione ha ragion d'essere oppure possiamo essere più tranquilli perché siamo stati vaccinati o in qualche modo ci siamo immunizzati? Una certa preoccupazione ci deve essere nel senso di non dare per scontato che il Covid sia finito e che l'influenza non arrivi, anzi purtroppo ne abbiamo quasi la certezza, già dei casi sono stati isolati e abbiamo visto l'esperienza dell'Australia nel loro agosto, nel loro inverno dove la stagione in quel caso è stata la peggiore degli ultimi cinque anni. Dopo due anni di assenza dell'influenza grazie a tutti quegli interventi che sono serviti a limitare il Covid ma hanno avuto una maggiore efficacia per questi virus meno diffusivi. A partire dal primo ottobre non c'è più l'obbligo della mascherina sugli autobus, mezzi pubblici, ospedali, case di cure eccetera. Questo potrà in qualche modo favorire un maggior contagio sia di Covid che di influenza? Di fatto sì perché ogni occasione di contatto interumano dobbiamo ancora considerarlo un potenziale rischio di infezione. È chiaro che ci siamo guadagnati questa libertà con una grande adesione alla vaccinazione verso il Covid con un 81% della popolazione che si è vaccinata ma davvero io credo iniziamo così con una libertà e una rilassatezza ma manteniamo l'attenzione e pianifichiamo in termini anche istituzionali degli scenari che speriamo non debbano essere utilizzati e applicati con restrizioni se sarà il caso perché davvero ci aspettiamo con gli sbalzi termici, le condizioni ambientali, stare più al chiuso, la scuola aperta che è giusto che sia in presenza ma che ovviamente è uno dell'elemento tra i tanti che aumenta le probabilità di contatto. Pronti a stare in guardia quindi. Che influenza sarà quella di quest'anno? Quali sono le differenze rispetto allo scorso anno? Negli ultimi due anni l'influenza e gli altri virus respiratori di fatto hanno circolato poco o niente. Lo scorso anno già si erano fatti sentire in particolare il virus respiratorio sinciziale. Quest'anno se stiamo a quello che è successo in Australia sarà una stagione di intensità medio-medio alta con 6-7 milioni di casi con questa variante del virus H3N2 australiana che purtroppo si diffonderà e si diffonderà proprio perché non avendo questa risposta immunitaria questa protezione dal virus influenzale negli ultimi anni vedrà molti italiani se non vaccinati a rischio di infezione. I sintomi di questa prossima influenza sono diversi? L'influenza è sempre uguale come patologia. Cambia il virus e quindi più o meno le stagioni possono essere impegnative e determinare effetti pesanti più o meno alti. Ma ricordiamolo che comunque l'influenza dai 5 mila ai 10-15 mila casi di decessi per conseguenze li determina quattro volte meno del Covid ma comunque un qualcosa di rilevante. La patologia influenzale si riconosce dal resto delle infezioni respiratorie più difficilmente dal Covid perché inizia con febbre elevata oltre 38 con dei sintomi respiratori e dei sintomi cosiddetti sistemici generali dolori muscolari articolari. Quindi purtroppo l'elemento che ci preoccupa sarà appunto questa copresenza e come sappiamo abbiamo ben imparato l'unico è l'esecuzione del test anti-Covid per differenziare queste forme. E se arriviamo al vaccino, vaccino anti-Covid ha detto lei abbiamo accentuali, adesso arriva la stagione del vaccino contro l'influenza. Chi deve farlo? Ci sarà la cosomministrazione? Come dobbiamo regolarci? Io credo proprio che non ci sarà più per esempio per quanto riguarda il Covid, la vaccinazione obbligatoria, il Green Pass, quello che è servito a mio giudizio nel momento emergenziale. Ora si deve passare a una raccomandazione e una raccomandazione diretta verso le persone che negli anni abbiamo detto dovevano vaccinarsi contro l'influenza. Quindi le persone più anziane, le persone con patologie croniche, le persone più a rischio. E quindi tra l'altro sarà possibile, già l'anno scorso era fattibile, in una stessa seduta vaccinale eseguire in due punti diversi i due vaccini. Ma davvero ribadisco l'elemento che differenzierà il peso sulla società, sugli effetti di salute e su eventuali restrizioni che magari si possono paventare, sarà determinato da quanto le persone fragili vorranno accedere a questa opportunità. Farmaci da automedicazione molto utilizzati da una quota, abbiamo visto dall'indagine di Assosalute, di persone. Quali sono quelli più indicati che possiamo utilizzare liberamente quando abbiamo i sintomi? È importante innanzitutto gestire l'automedicazione in modo responsabile, cioè dato che si tratta di farmaci sintomatici da scegliere tra i tanti principi attivi disponibili in base alla costellazione dei sintomi che si stanno subendo. Ci sono farmaci più diretti, alla febbre, altri antinfiammatori e il farmacista può suggerire quale adottare tra le tanti brand, tante marche che sono disponibili. Però il concetto è appunto quello di seguire l'andamento della malattia nell'arco di due o tre giorni e ovviamente rivolgersi al medico se le cose non dovessero migliorare.